Enrico Rizzi, chi è davvero? Il 2 marzo 2021, l'associazione femminista, non una di meno, ha pubblicato le seguenti parole, sulla pagina Facebook nazionale. Lidia Peschecarea è stata uccisa una seconda volta. Non bastava l'orribile femminicidio, ma il patriarcato ha infierito sul cadavere ancora caldo, tramite il vergognoso Enrico Rizzi, che in tutta la sua misoginia, ha sfruttato la morte di Lidia, per avere like facili, spacciandola. Come se fosse un oggetto, un trofeo da esporre, come una sua fan sfegatata. Chi è Enrico Rizzi? Di cosa sta parlando l'associazione femminista, non una di meno? Facciamo qualche passo indietro. Il 12 febbraio 2021, l'attivista animalista, femminista e pro-LGBT, Lidia Peschecarea, è diventata vittima di un orribile femminicidio. Ne hanno parlato tutti i media, giornali, televisioni, eccetera. Così, una settimana dopo, il 18 febbraio, Enrico Rizzi decide di fare un post su Lidia dove scrive «Sono distrutto, Lidia era una mia follower sfegatata, mi seguiva da anni e l'ho aiutata a risolvere tante questioni». Improvvisamente, decine e decine di attiviste, amiche strette di Lidia Peschechera, hanno iniziato a commentare che Rizzi dichiara il falso, ovvero, che lui non l'aveva mai aiutata, e meno che mai, che lei fosse una sua follower sfegatata. Enrico Rizzi, resosi conto, della gaffa appena fatta, resosi conto, di essere stato scoperto a Milantare, decide di scusarsi, con le amiche di Lidia, e con la sua famiglia, per aver provato a strumentalizzare, per un po' di like, la sua morte. Sto scherzando, in realtà, non si è scusato, anzi, ha iniziato a bannare le amiche di Lidia, e, come se non bastasse, ha fatto anche di peggio. Il 20 febbraio, pubblica uno stralcio, di una conversazione privata, che lui aveva con Lidia, in cui lei lo ringrazia, probabilmente, per una promessa d'intervento, mai avvenuta, nello stesso post, pubblica, nomi, e, foto, delle amiche di Lidia, che, giustamente, lo hanno criticato per il suo tentativo di sciacallaggio. Enrico Rizzi, non si è fatto alcun problema, a speculare, sulla vittima di un femminicidio, e, a instigare odio, verso le amiche di Lidia, mostrando nomi, e, foto. Il fatto che Enrico Rizzi stia mentendo, ormai, diventa palese sempre a più persone, che, poi, basterebbe andare sul profilo Facebook, di Lidia, e guardare tra i suoi like. Ovviamente, la pagina di Enrico Rizzi, non compare minimamente, altro che, followers fegattata. Ma non finisce qui, il 28 febbraio, viene pubblicato, un file audio, che, smonta Enrico Rizzi, definitivamente. Nel file, possiamo sentire, la voce di Lidia, e quello che, davvero lei pensava di lui. Scusate, abbiamo chiesto aiuto a Enrico Rizzi, che si è permesso di fare una raccolta fondi per salvare un cane, ha fatto un posto dove dice di aver salvato il cane di lui, in realtà si è salvato da Davide Cito. Cioè, questa cosa è gravissima. Cioè, abbiamo chiesto aiuto a uno che è considerato un truffatore, che intasca soldi a tutt'andare. Oh, dissociamoci da sta roba, eh, assolutamente. Cioè, per l'amor del cielo. Ma la cosa grave è che si è intascato soldi, che non sono andati, a quanto pare, alla Ludovica, ed è stato salvato grazie a Davide Cito, che ha fatto la diretta. Cioè, lui non ha fatto assolutamente nulla, cioè, ha inventato tutta una storia. Ma è gravissima sta cosa? Oh, ma stiamo scherzando? Cioè, ma io manco sapevo che fosse così. Cioè, ne avevo sentito, avete sentito dire che era un personaggio. Però, sti livelli proprio così clamorosi, no. Quindi, mai più una roba del genere, ragazzi, mai. E facciamo attenzione, veramente, con chi abbiamo a che fare. Altro che follower sfegatata, a questo punto, Enrico Rizzi, si trova con le spalle al muro. Dopo aver perso la prima occasione, per chiedere scusa, perde, anche la seconda. Infatti, invece di chiedere scusa, per aver mentito su Lydia, gira un video, dove, rincara la dose, travisando il senso del post che riporta il pensiero di Lydia. Nel video, Enrico Rizzi, minaccia di querela, chiunque gli abbia dato del truffatore, in altre parole, minaccia di querela, soltanto la povera Lydia, che, dopo averla sfruttata, per avere un po' di like, adesso spaccia come un'ingenua, o peggio, una bugiarda. E' chiaro che Lydia, in quell'audio, ha detto delle menzogne. Mi ha accusato, giustamente, di essere un truffatore. E' chiaro che Lydia, in quell'audio, ha detto delle menzogne. Chi ha pubblicato il video non sostiene che ciò che dice Lydia nel video sia vero o falso, ma solo e soltanto che Enrico Rizzi abbia spudoratamente mentito su Lydia. Se devo essere attaccato, se devo essere criticato, se c'è qualcuno che mi vuole criticare, mi avete voluto criticare perché ho scritto che Lydia era una mia fan sfegatata. Siete liberissimi di criticarmi, è giusto che lo fate. Ripeto e sottolineo, siete liberi di mettere centomila post contro Enrico Rizzi sulle vostre pagine Facebook. Non me ne può fregare di meno, non me ne frega nulla. Se dovete farmi delle critiche per qualcosa che ho fatto, io mi sto zitto, perché siamo in democrazia. Ed è giusto che ognuno sia libero di scrivere pure a lettere cupitali sulla sua pagina. Enrico Rizzi è un cretino, perché è un finto animalista. Mi va benissimo, siete liberi di farlo. Allora, caro Enrico Rizzi, perché te la prendi tanto? Se lo facciamo, perché minacci di querele? Chiunque respiri, forse perché in realtà non è vero quello che stai dicendo, se no perché bannare tutti quelli che ti hanno criticato per questa cosa dalla tua pagina, perché bannare tutti gli amici e amiche di Lidia che ti hanno chiesto di non mentire. Vi voglio vedere, sapete come? Davanti al tribunale che mi venite a chiedere scusa. Ma chi vuoi vedere davanti al tribunale? Lidia, perché ti ha appellato come truffatore? Forse dovrebbe essere la sua famiglia a vederti davanti ad un tribunale. Che ne dici? Comunque, questa storia è stata ripresa anche dall'associazione femminista Nonna di Meno, sia dalla pagina di Pavia, ovvero dove è avvenuto l'orribile femminicidio, ed è stata rilanciata dalla pagina nazionale. Questa gente si dovrebbe vergognare! Sta pubblicando delle cose di una persona morta! Ma siete della gentaglia! Siete gentaglia! Siete lo schifo di questa società! Veramente Enrico, sei stato tu il primo a pubblicare, senza permesso e senza contesto, un pezzo di chat con Lidia, col fine di tirare fango sulle sue amiche. Gli audio, invece, sono stati pubblicati, in difesa di Lidia, contro il tuo tentativo di strumentalizzazione, dato che lei non voleva essere associata a te. Dissociamoci da sta roba, assolutamente, per l'amor del cielo. Ma è più una roba del genere, ragazzi, mai, facciamo attenzione, veramente, con chi abbiamo a che fare. Non mi sono mai permesso di dire menzogne, mai! Va bene, Enrico Rizzi, va bene. Siete invidiosi del successo degli altri, è questa la verità! A voi vi rode il sedele, perché Enrico Rizzi ha 300.000 persone che lo seguono, perché Enrico Rizzi ha milioni di visualizzazioni, è questa la verità! Enrico Rizzi ha, per fortuna, tanta gente che lo stima e lo segue, e i vostri posti hanno 7-8 like e vi fa imbestialire questa cosa! Molti criticano Enrico Rizzi, dicendo che a lui importa solo dei like, ma no, non sembra proprio. Il problema, sai cos'è? Che magari quel post, questo audio viene condiviso, va a finire su una pagina di un profilo, di un signore o di una signora per bene, che magari giustamente non conosce Enrico Rizzi, perché voglio dire, Enrico Rizzi non è il presidente degli Stati Uniti d'America, che è conosciuto in tutto il mondo, è giusto! Magari va a finire in una pagina di una persona che poteva avere stima di me, e che magari vede quell'audio, sente quell'audio, legge dei commenti assurdi, falsi, e si fa un concetto negativo su di me. Pensate che disgrazia è, magari potresti evitare di speculare sui morti, Enrico Rizzi. Mezza giornata ogni tanto me la prendo per andare a vedere le cretinate che pubblicate. E la soddisfazione più bella è che vengono ai vostri profili. Pubblicate notizie e avete due like, zero commenti e una condivisione. Il giorno dopo pubblicate un'altra cosa e avete due commenti e un like. Il sottoscritto ogni giorno ha migliaia di like, migliaia di commenti, milioni di visualizzazioni e i follower su questa pagina crescono giorno dopo giorno. E questa è la soddisfazione più bella. Io cresco giorno dopo giorno, continuo a ottenere la fiducia di milioni di italiani. Vabbè, abbiamo capito, ma perché ad Enrico Rizzi interessano così tanto i like su Facebook? Probabilmente perché spesso tali like si traducono in denaro. Beh, se consideriamo le continue raccolte fondi che fa, ma soprattutto i suoi abbonati, facendo due conti gli fanno entrare minimo 1800 euro al mese in tasca. Per non parlare di tutti i suoi gadget, come cappellini, zaini, trollei, ma non meno importante, questi like si traducono in possibili elettori e diventa sempre più palese che il fine di Enrico Rizzi. Sia quello di entrare in politica, come lui stesso ha dichiarato sulla sua pagina. Abbiamo già troppe persone discutibili in politica. Personalmente, non mi sembra il caso di mandarci anche qualcuno che arriva a speculare su una vittima di femminicidio per un po' di like.